E intanto andiamo da Ettore Giovannelli ai box della Ferrari. Ci hanno appena informato che l'elettore costruttore mobile di Ferrando non ha alcun problema, sta funzionando bene, quindi non c'è dove mettersi qui come entrano. Grazie, si vede che la Regione ha accorto quel frangente, ma per fortuna non ci sono allarmi. E comunque adesso siamo quasi a metà gara, perché la gara è sui 56 giri, quindi siamo nel 27esimo e sono già stati effettuati due pit stop, quindi in proiezione per il futuro sarà necessario sicuramente effettuare un altro pit stop. Però i piloti dovranno cercare, adesso che la benzina è praticamente semplice circa a metà, di cercare di fare il numero più elevato di giri, perché poi dovranno mettere le ture che curano come le morbide, però sono tutto più lenti. E questo dovrebbe essere un vantaggio, come dicevo in precedenza, per Weber. Il quale Weber però adesso è precipitato, dopo i suoi due pit stop in quindicesima posizione, è accuso a ritardo da Fetter di 46 secondi, quindi un po' tardi, un po' tanto, anche se Fetter è ancora in pista e sta girando tra l'altro con tempi molto buoni.